Ciao a tutti. Molto spesso alcune persone appassionate di animali e di conservazione decidono di andare in Africa per fare qualcosa per gli animali e fare qualcosa appunto per la conservazione. Essi recono in santuari che trovano su internet o consigliati di amici. Ma siamo sicuri che questi santuari siano posti dove realmente viene fatta conservazione, dove realmente il benessere animale è messo al primo posto? Bene, alcuni anni fa in I.E. è nato un progetto Trip to Rescue dove appunto abbiamo deciso di selezionare accuratamente questi santuari e portare quei turisti che vogliono fare del bene agli animali e fare del bene per la natura africana appunto in questi posti assolutamente certificati e controllati. A seguire il progetto è un grandissimo amico, oltretutto è un membro del direttivo di I.E.A., Davide Sita, che quest'oggi ci parlerà appunto di tutti i santuari che sono stati selezionati per il progetto Trip to Rescue. Quindi vi invito a seguire con molta attenzione questo intervento di Davide, così che se un domani lo vorrete potrete andare con lui e il progetto Trip to Rescue a fare qualcosa per gli animali e la conservazione in Africa. Buon ascolto. Molto bene. Ciao a tutti ragazzi, intanto vi saluto, è un piacere essere questa sera qua con voi. La mia presentazione è un po' diversa diciamo dal punto di vista turistico rispetto a quella dei miei colleghi che abbiamo insomma comunque sentito fino ad ora e anche nelle live passate, perché mi occuperò di conservancy. Prima di parlare di entrare direttamente nel tema però è doverosa diciamo una premessa. la conservazione della natura diciamo che può essere considerata come una sintesi, ok, tra una disciplina che è quella scientifica della biologia della conservazione e tutte quelle norme e quelle azioni ovviamente che servono ad raggiungere obiettivi pratici, ok, in merito alla disciplina. Elemento centrale sicuramente della politica, delle politiche di conservazione è sicuramente la biodiversità, la diversità biologica, insomma la ricchezza della vita, chiamiamola come vogliamo, che sono che cosa? Le piante, gli animali, i batteri, quindi i microrganismi, i funghi, ok, ovviamente anche i loro geni e tutto quei complessi di ecosistemi che creano ovviamente una biosfera. I principali, sicuramente i principali motivi di crisi della biodiversità sono da ricercare sicuramente in una esplosione diciamo demografica dell'essere umano. Le minacce che ovviamente questo comporta sono diverse, sono molto importanti. Ripeto, questa premessa è fondamentale per poi allacciarci al discorso delle conservazioni. Queste minacce principalmente sono l'inquinamento, ovviamente la trasformazione del territorio, lo sfruttamento anche della biodiversità, se non è ovviamente sostenibile. E per ultimo, ma non è meno importante, l'immissione ad esempio di specie all'octone, ok, in zone ovviamente diverse da quelle dove dovrebbero vivere. Esistono tanti dati scientifici incontrovertibili, ad esempio pensate che il 99% delle estinzioni di specie, diciamo in epoca modena, sono riconducibili sicuramente all'attività antropica, all'antività umana. E quindi questo ci dovrebbe porre delle domande. Che cosa si può fare appunto per migliorare queste condizioni? Beh, sicuramente una risposta plausibile possibile è sicuramente creare delle aree protette. Queste aree protette sono veramente fondamentali per tutelare ovviamente gli animali, funghi, l'habitat, ma anche le formazioni geologiche e quindi paesaggistiche. E queste devono essere fatte da chi? Da chi ha un ruolo importante in questo settore. E quindi le politiche di gestione dei territori che vengono fatte principalmente dallo Stato e poi a cascata da tutti i componenti, gli attori di questa operazione. La Namibia, e la premessa era questa, è uno dei pochi paesi appunto al mondo ad occuparsi specificatamente della conservazione degli abitati, della protezione ovviamente delle risorse naturali. E lo fa, lo ha fatto inizialmente, storicamente, con l'articolo 95 della sua Costituzione che dice che lo Stato promuoverà attivamente e manterrà il benessere delle persone adottando politiche internazionali volte a mantenimento degli ecosistemi, processi ecologici essenziali e diversità biologica della Namibia e utilizzo delle risorse naturali viventi su una base sostenibile a beneficio di tutti i namibiani, sia presenti che futuri. Futuri è un termine che a me ha sempre fatto particolare impressione perché si tratta di qualcosa di lungimirante e quindi è interessante sapere che, insomma, hanno inserito questo articolo nella loro Costituzione. Ma nonostante la Namibia sia comunque sia un paese virtuoso, i problemi non mancano. Uno dei principali, o comunque sia uno dei problemi che vorrei sottolineare stasera con la mia presentazione appunto il conflitto tra uomo e animale. E da qui inizieremo comunque sia il nostro viaggio alla scoperta anche dei donne e uomini che hanno dedicato veramente la loro vita a questo problema. Il nostro internazionale inizia da Windhoek e toccherà quattro conservancy. Che cosa sono queste conservancy? Sono dei centri di ricerca, sono dei santuari, quindi delle aree, delle zone dove gli animali vengono ospitati sia in cattività per tempo determinato ma anche definitivo e sono soprattutto dei poli di attività educativa nell'ambito della conservazione, nonché hanno progetti ovviamente direttamente legati e collegati alle comunità. Quindi, fatta questa premessa, andiamo, accomodiamoci sul nostro Land Cruiser e partiamo, partiamo da Windhoek e arriviamo veramente molto velocemente nel primo santuario dedicato alla conservazione della fauna selvatica di cui vi vorrei parlare. Si trova appunto a un'oretta di strada da Windhoek, quindi anche molto comodo da raggiungere. È una riserva, almeno quella principale, perché adesso ha diversi riserve in tutta la Namibia. Nancuse, la riserva appunto che abbiamo a pochi chilometri dalla capitale, è una riserva di circa 3200 ettari. Qui vediamo nella foto appunto i due fondatori, che sono il dottor Rudine Van Vuren e la moglie Merlis, insieme ad Angelina Giolì di cui parleremo magari dopo. Loro come hanno iniziato la loro attività. Nel 2003 hanno aperto una clinica medica per forlire l'assistenza sanitaria ai San, ai Boshimani, che in quell'area non avevano una copertura e quindi rischiavano molte volte di avere grossi problemi, soprattutto i bambini, e quindi hanno deciso di creare questa struttura. Da lì, qualche anno dopo, insieme ad un gruppo di partner, hanno deciso di acquistare una fattoria e quindi di creare un santuario per la fauna selvatica. Nel 2006 questo santuario è diventato, a Nancuse è diventata una fondazione, oltretutto Nancuse significa Dio ci proteggerà, quindi insomma hanno creato questo santuario con delle aspettative importanti. E appunto Nancuse opera nel soccorso, quindi nel recupero, nel soccorso di animali feriti, orfani, e l'obiettivo ovviamente è quello della reintroduzione in natura quando possibile, ovviamente, oppure della gestione in cattività in tutte quelle fasi, in quelle situazioni nelle quali purtroppo non possono essere più liberali. Promuove tecniche di mitigazione direttamente nelle farm, quindi progetti di mitigazione per evitare appunto il conflitto tra uomini e animali. Questo conflitto di solito da dove nasce? Nasce molto spesso dalla predazione di determinati animali rispetto agli animali di allevamento. E quindi loro hanno tutti questi progetti di mitigazione e in più offrono anche l'opportunità alle comunità boscimene di poter lavorare grazie ai lodge che hanno creato, in modo tale appunto da poter avere un reddito anche a queste popolazioni che molto spesso sono state emarginate, anche storicamente sono state emarginate in Namibia. Ci tengo a precisare che Nancuse non lavora con fondi statali, ma lavora semplicemente con donazioni, per nazioni private, che permettono ai professionisti che lavorano all'interno dei vari progetti e anche ai volontari di realizzare ovviamente gli stessi. Per cui invito anzi chi ha intenzione o piacere di informarsi sulla possibilità di fare volontariato all'interno di questi progetti di poter andare sul loro sito che è www.nancuse.com. I stessi visitatori, quindi viaggiatori, che hanno piacere di visitare il santuario hanno la possibilità appunto, come vi dicevo, di essere ospitati nei loro logit, sono abitazioni molto confortevoli, e fare una visita all'interno del santuario per vedere appunto i vari carnivori che hanno all'interno delle strutture, e quindi sia quelli che non sono liberabili, ma anche quelli che sono in una fase, diciamo, di gestione prima della liberazione. A questo punto avevo piacere di raccontarvi una stornia sul santuario di cui stiamo parlando, perché tra i tanti animali appunto che hanno recuperato, salvato, reintrodotto, qualche anno fa sono stati recuperati cinque cuccioli di licaone, di wild dog. Questi animali ovviamente sono stati cresciuti all'interno del santuario, ma con l'obiettivo di essere liberati, di creare il branco e poi liberati. La liberazione è stata fatta nel giugno del 2018, nella riserva di Zanier, e questa riserva purtroppo è adiacente ad una zona dell'aeroporto. Gli animali ovviamente liberi avevano già iniziato a cacciare, anzi utilizzavano molto spesso le fence, quindi questi recinti, di delimitazione per bloccare le prede e poi ovviamente predarle. Loro ovviamente come sapete, se non lo sapete, hanno delle tecniche comunque sia di predazione molto particolare, perché praticamente loro corrono dietro alla preda, affinché la preda non è esausta e in quel momento la attaccano e poi appunto la preda. Se non che purtroppo nel 12 febbraio del 2019 è successo un fatto molto brutto. Guardie di sicurezza dell'aeroporto si sono introdotti all'interno della riserva, una riserva naturale, e mentre questi licaoni avevano appena predato un kudu, hanno sparato tra i licaoni per allontanarli e hanno recuperato la preda per appunto utilizzarla come carne di selvaggina. Quindi in quella data sono morti 3 di 5 licaoni, quindi il pack si è disgregato. I due licaoni che si sono salvati e che erano ancora liberi sono stati catturati e rintrodotti all'interno del santuario perché due licaoni da soli difficilmente hanno possibilità di successo nella caccia. Questo per dirvi che purtroppo, molto spesso, anche queste attività, che sono attività molto lunghe, sono attività molto delicate, possono in qualche modo purtroppo essere distrutte da persone che purtroppo hanno valori morali sicuramente diversi dai nostri. Questo per raccontarvi che in questi centri, che molto spesso, non sempre comunque sia, ci sono anche critiche molto spesso per quanto riguarda magari avvicinarsi troppo agli animali, l'interazione, cosa che non è sempre facile, soprattutto quando si ha a che fare con determinate specie, ma quando si ottengono dei risultati importanti, a volte purtroppo l'uomo però può in qualche modo rovinare tutto e questo noi non lo vogliamo. Quindi cercheremo sempre comunque sia di collaborare con questi centri e cercare in qualche modo noi come guide e quindi portare i nostri turisti e dargli la possibilità comunque sia di capire esattamente quello che fanno, perché hanno tantissimi progetti, alcuni magari possono essere discutibili da alcune persone che hanno magari degli obiettivi o comunque sia dei principi etici diversi, ma sicuramente alcuni di questi sono andati a buon fine, se non che purtroppo l'essere umano ha in qualche modo rovinato tutto, come in questo caso con i Cinque e Wild World. Un altro interessante progetto di Nancuse, che è nato nel 2017, è il salutario del Shiloh, o di Shiloh, è il Wild Delight Conservancy, che è nato dalla collaborazione con Angelina Jolie e appunto è un santuario per orfani di Renoceronte, di cui immagino che Davide poi parlerà a breve, quindi aspettiamoci notizie da lui per quanto riguarda questo tipo di santuari. Bene, quindi noi torniamo indietro con la nostra jeep, riprendiamo la strada verso Wingot e da Wingot saliamo verso nord. Andiamo a circa due ore dalla capitale in un'altra riserva molto bella, bellissima, che si chiama Africats, di cui io sono stato due anni fa. È una riserva di circa 200 km quadrati che si occupa anche questa, la si chiama riserva di Okongima, si occupa anche questa della gestione, ok, delle ricerche ecologiche in particolare, incentrate sulla varietà di specie, in particolare sui leopardi e sulla iena bruna. La nostra esperienza è stata molto interessante con i miei ospiti, abbiamo alloggiato all'interno della riserva, abbiamo fatto una giornata di safari utilizzando delle antenne per localizzare i leopardi che erano stati preventivamente, insomma, anni prima, radiocollarati. Il radiocollaraggio serve appunto perché loro fanno ricerche sulle metapopolazioni e sulla sostenibilità di questa specie in aree comunque delimitate da fence, quindi da riserva. Queste dinamiche di popolazioni sono molto importanti anche per lo studio e la densità dei leopardi, per anche in questo caso il conflitto dei leopardi con le popolazioni, soprattutto per quanto riguarda gli allevamenti, loro fanno anche cattura, quindi vengono chiamati da molte farm quando hanno dei problemi di predatori all'interno delle loro riserve e li portano appunto nelle riserve dove possono vivere una vita sicuramente molto più sicura. Ricordiamoci sempre che appunto la Namibia come tanti altri paesi ha aree naturalistiche ma anche ancora molti pascoli, quindi delle farm che anche se sono difese da queste strutture, queste fence, non sempre sono protette da predatori che riescono a passare e quindi una cosa importante che viene fatta da Africats oltre alla cattura e oltre allo studio all'interno della loro riserva è anche ovviamente la sensibilizzazione anche in questo caso all'interno delle farm con i contadini per fargli capire l'importanza ovviamente di questi animali e per trovare dei sistemi che permettano appunto di convivere. In più, l'insieme di questi dati che vengono raccolti vengono dati agli organismi nazionali appunto per trovare delle strategie e per potere comunque sia anche in questo caso trovare dei sistemi per la conservazione dei carnivori anche a livello più alto istituzionale. Scusatemi, questa era la mia presentazione che purtroppo non è una presentazione bellissima ma ho avuto un problema con il mio PowerPoint quindi l'ho dovuta fare un pochino al volo mi scuserete se è un po' riassuntiva però in ogni caso insomma le informazioni che vi sto dando sono quelle importanti. Africa's a differenza ad esempio di Nancuse non dà la possibilità a volontari di poter operare all'interno dei progetti sono tutti professionisti. A questo punto continuiamo il nostro percorso e ci avviciniamo verso a circa tre ore quindi da Windoc verso un altro dei progetti più conosciuti al mondo il Cita Conservation Fund Cita Conservation Fund è sicuramente una delle strutture di ricerca che stabilisce anche uno standard per i ricercatori e gli studenti di tutto il mondo appunto per quanto riguarda la gestione e la conservazione dei gepardi. Cita Conservation Fund oltre ovviamente a gestire una serie di progetti è anche una destinazione per l'ecoturismo quindi anche in questo caso molto spesso gli ospiti li portiamo a visitare il loro centro che è un centro multifunzionale che si occupa che ha la parte ovviamente di farm che ha la parte di museo che ha la parte importantissima di laboratorio per la genetica del appunto dei dei gepardi e anche una clinica veterinaria specializzata ovviamente tutte queste realtà hanno anche una parte di museo dove introduciamo ovviamente le caratteristiche della riserva le caratteristiche del progetto della conservazione ricordiamoci sempre che in Namibia sono circa 3.000 i i gepardi liberi in natura e che quasi il 90% di essi vive in terre coltivate e quindi entra in contatto e in conflitto con gli agricoltori il bestiale eccetera il Citta Conservation Fund è stato fondato nel 1990 molti di voi conosceranno la dottoressa Lori Mark è stata lei appunto a fondarlo e la sua carriera è nata diciamo che lei da subito ha pensato ha voluto comunque sia lavorare con i gepardi ha lavorato prima nel Wild Reif Safari degli Stati Uniti per poi dedicare la sua vita appunto ai Citta in natura oggi il Citta Conservation Fund oltre ad avere molti progetti appunto come di conservazione ne è uno in particolare di cui vi volevo parlare una piccola curiosità perché questa lo ritrovate anche qua in Italia in alcuni progetti italiani sui lupi alleva pastori anatolici e Kangal appunto animali specializzati nella gestione del appunto del bestiame e che sono animali molto coraggiosi e quindi che riescono in qualche modo comunque a dissuadere molto spesso i predatori questi vengono ovviamente allevati all'interno del Citta Conservation Fund e regalati ok ai vari farmer che ne hanno bisogno e che accedono appunto a questi programmi e a questi progetti di a questo nuovo progetto molto interessante questo questo è il Citta lei è la dottoressa di cui vi parlavo prima questa è un'immagine commessa un po' emblematica per quale motivo perché ci tenevo anche a precisare che purtroppo è una cosa abbastanza consueta all'interno di questi progetti di questi santuari il fatto di avere comunque sia questo rapporto un po' intimo con gli animali io credo che da un punto di vista diciamo dell'informazione non sia una non sia etico avvicinarsi così alla fauna selvatica la fauna selvatica credo che debba comunque sia essere osservata vista in natura da lontano e il contatto umano il pet che noi ricerchiamo verso questi animali sicuramente loro non lo ricercano verso di noi quindi un mio piccolo appello personale è sempre quello comunque sia di osservare gli animali in natura e di evitare questo tipo di informazioni che soprattutto per i nostri bambini le persone più piccole sono dei messaggi sbagliati perché noi abbiamo bisogno invece secondo me di spiegargli che tra la fauna selvatica e noi ci deve essere una distanza di rispetto una distanza di rispetto che anche questa vuol dire comunque conservazione bene lui è un mio amico che ho conosciuto al cito conservation found ragazzi a questo punto arriviamo prendiamo la nostra risaliamo sulla nostra sulla nostra jeep e andiamo verso il deserto del damaralan di cui ci ha spiegato tantissimo davide e parliamo dell'ultimo progetto che non è un progetto in una riserva quindi non stiamo parlando di un santuario ma stiamo parlando di un gruppo ok di avventurieri io li definirei che hanno deciso di nel 2003 di aprire questo progetto che si chiama Elephant Human Relation Aid Elephant Human Relation Aid è un progetto secondo me ambizioso interessantissimo dal punto di vista conservazionistico perché purtroppo gli elefanti che vivono appunto nelle zone del damaralan questi elefanti che si sono adattati a vivere in un ambiente così ostile ovviamente hanno molti contatti con le popolazioni locali questi contatti sono dovuti al fatto che questi animali tendono ovviamente perché sono animali anche molto intelligenti ad andare ad abbeverarsi nelle botti o comunque nelle tubature delle comunità locali cosa succede? succede che questo può creare dei danni e che le acque possano essere contaminate e visto che l'acqua ovviamente è un bene molto prezioso questi animali venivano sterminati quindi questi ricercatori che cosa hanno fatto? hanno deciso di acquistare due Land Cruiser di dare per creare questa fondazione questo progetto e di partire con i volontari e andare direttamente nelle comunità locali a fare cosa? a fare una settimana di lavori edili quindi si mettono su dei muri di contenimento per evitare che questi animali riescano ad accedere alle fonti d'acqua ovviamente umane e poi come secondo lavoro loro si occupano della gestione dei numeri quindi fanno la parte diciamo di controllo delle popolazioni con i kit identificativi le fotografie eccetera e ovviamente tutti questi dati vengono poi dati allo Stato in modo tale da tenere sotto controllo la popolazione quindi sono circa due settimane di volontariato e in questo progetto abbiamo anche la possibilità come guide e come come turisti di poterli seguire in alcune delle loro attività in una giornata di appunto di 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 questo tipo in modo tale da poter capire veramente quello che fanno questo è un progetto molto interessante sia dal punto di vista secondo me del volontariato e della conservazione quindi dell'ecoturismo anche dal punto di vista proprio di chi va in in Namibia e ha piacere di conoscere queste persone perché sicuramente arricchiscono tantissimo la nostra la nostra coscienza io ragazzi con questo ho finito avevo mi raccomando continuate a seguirci su questo canale vi aspettiamo conoscere